buongiorno a tutte e a tutti da salvorusso in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre mi rego sul mio posto di lavoro io al negozio di informatica a siracusa in via reierone secondo numero 12 chiunque volesse venimi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 dalle 16.30 alle 20 il sabato solo mattina la domenica chiuso oggi voglio parlare di un'opportunità che è il bonus tv cos'è il bonus tv allora in questi giorni qualcuno mi ha chiesto di approfondire sappiate che il 23 agosto il mese quindi qualche giorno fa il ministero dello sviluppo economico ha diramato le linee guida su come ottenere questo bonus che è fino a un massimo di 100 euro in percentuale a quello che si acquista come televisore questo perché in teoria dal 2023 ci sarà un nuovo tipo di segnale di btb meu che sostituirà i vecchi apparecchi televisivi per cui in teoria se non comprate un decoder non potrete più guardare determinati canali c'è da dire che questo bonus è diverso dal bonus tv i sei 2000 20 mila scusate e adesso vi spiegherò un attimino le differenze il bonus tv è fino ai 100 euro come percentuale in proporzione del 20 per cento ciò significa che se comprate un televisore da 500 euro avrete il 20 per cento quindi 100 euro se comprate un televisore da 300 euro avrete il 20 per cento quindi 60 euro sotto forma di sconto in questo momento vi posso dire che i negozi fisici le gdo quindi i grandi centri commerciali o anche i negozi stanno adottando questo tipo di bonus tutti i negozi che vogliono aderire vanno sul sito credo dell'agenzia delle entrate del misa e si registrano e vengono autorizzati a fare questo tipo di bonus come funziona bisogna avere un modulo di autocertificazione che io poi più tardi pubblicherò in questo modulo di autocertificazione che voi compilate in tutte le sue parti attestate dichiarate che state conferendo un vecchio televisore antecedente il 28 dicembre 2018 quindi vecchio o nel negozio dove state acquistando il nuovo televisore oppure in una piattaforma di raccolta idonea a qualsiasi ragusa ad esempio potrete portare il vostro televisore in uno dei ccr a taggio a renaura e lo smaltite vi portate con voi questa autodichiarazione e la presentate poi successivamente al negoziante che vi farà base ai propri prodotti disponibili lo sconto questa è un'operazione bisognerà fare entro il 31 dicembre 2021 e soprattutto entro il monte finanziato di 250 milioni non c'è una stima esatta di quante persone andranno a fare questo tipo di rottamazione queste 250 milioni potrebbero essere anche insufficiente certi vedremo dicevo è diverso il bonus tv dal bonus tv 20 mila isè qual è la differenza sostanziale il bonus tv è rivolto a tutti il bonus tv isè 20 mila mi viene sempre 2000 20 mila è rivolto solo esclusivamente a chi ha un isè sotto i 20 mila euro attenzione entrambi i bonus sono cumulabili per cui voi potete avere uno sconto massimo di 100 euro più un bonus tv isè 20 mila fino al 30 euro quindi potreste avere entrambi questo chiaramente farà fede il rivenditore dicevo prima non ci sono in questo momento se non negozi fisici opportunità online su amazon piuttosto che su ebay tranne che ieri ho attenzionato un negozio iepon per chi compra su ebay potrà trovare questa offerta ma credo già sia finita che c'era un televisore philips 43 pollici che anziché essere a 3 e 99 era 3 29 ieri c'era un riferimento appunto a questa cosa però ripeto in questo momento per quello che ho potuto capire io solo i negozi fisici danno questo tipo di opportunità allora queste sono le offerte opportunità che io ogni tanto pubblico se volete riceverle potete mandare un messaggio whatsapp sempre al 347 10 97 484 che è il mio numero mobile whatsapp con il vostro nome cognome e poi mi scrivete due righe dicendo voglio ricevere le offerte opportunità noi mandiamo solo a chi vuole diciamo ricevere questa opportunità determinati messaggio ogni tanto con delle offerte opportunità last minute errori di prezzo mandiamo delle chicche che possono essere sempre più o meno interessanti io sono arrivato sul mio posto di lavoro sappiate che se avete delle domande su bonus tv mi potete scrivere ripeto altre 4 7 10 97 484 su whatsapp mi raccomando non mi telefonate per queste cose rispondo a tutti senza nessun tipo di problema dovete avere un po di pazienza non mi chiamate perché altrimenti impazzisco basta se avete domande ripeto potete scrivere tutto questo che ho detto finirà più tardi sul mio blog salvorusso anche lì se volete potete mandare un messaggio vi invito a seguire il mio canale youtube il canale tik tok così riceverete appunto tutte le informazioni le cose interessanti ciao a tutte e a tutti da salvorusso